Emiliano Barsini, fresco di nuova difesa vinta del titolo europeo, hai fatto un match in cui hai sbagliato praticamente nulla? Diciamo che non ho sbagliato nulla, però anche perché c'era la consapevolezza che avevo fatto una bellissima preparazione, un'ottima preparazione con il mio maestro Mario Massaro e il mio preparatore Gino Lauro. Abbiamo fatto una bella cosa tutti insieme, una bella sinergia e poi si è visto sul quadrato. Io l'ho vista quasi come una vendetta, i cazzotti che non li hai dato a Viterbo li hai dati a Bergamo? Diciamo che c'era un dente avvelenato, anche perché c'erano delle problematiche, sai il maestro è stato fuori per una giusta causa, per difendere un mondiale con l'altro suo allievo, giustamente, e ci sono state un po' di problematiche, però stavolta è andata bene. Ora logicamente tutta CIE che vuole vedere Marsiglia al mondiale, qual è la situazione? La situazione è quasi fattibile, però per portarlo in Italia servono soldi veri e non so quanto siamo in grado di fare questa cosa. Possiamo fare un appello alle istituzioni, visto che abbiamo una centrale, visto che abbiamo un'autorità portuale con gli armatori, il primo porto diciamo in Europa, diciamo si fanno una sinergia con le istituzioni e si potrebbe anche portare qui a Città Vecchia. Potrebbe essere un evento praticamente indimenticabile, sia per il pugilato italiano che per la città cieca, qualora si facesse qui. Certo, potrebbe diventare un evento storico, un mondiale portato qui a Civitavecchia, dentro il porto o nella marina, sarebbe Mondovisione o altre televisioni, potrebbe diventare una cosa storica. Qual è il complimento che ti è piaciuto di più tra quelli che ti hanno fatto? Sono stati in tantissimi. Guarda, mi hanno fatto dei complimenti non so quante persone sui social network, tantissime. Mi è arrivato un bel complimento dalla SNC su Facebook, è una cosa bellissima, e sono rimasto sorpreso e l'ho ringraziato della sua sororità insieme a questi ragazzi dello sport che come a me fanno fatica ad andare avanti. Grazie a tutti.